Il coach a noi di Isola ci dice sempre di andare a letto presto così alla mattina siamo carichi e forti e così li possiamo fare neri. Il coach ci dice sempre di andare a letto presto così la mattina dopo per il Grand Prix siamo pronti e carichi. Il coach ci dice sempre di andare a dormire presto così siamo più carichi e così possiamo anche stracciare quelli che sono più forti. Il coach ci dice sempre di andare a letto presto perché dobbiamo essere carichi alla mattina e quando torniamo sul pulmino il vice coach ci dice che potevamo essere più carichi, che potevamo essere più forti, basta che non erano più forti di noi. Perché noi del PGS Isola siamo più forti!